Il Vangelo di questa domenica Il Vangelo di questa domenica ci presenta la figura di Gesù presentato al Tempio dei suoi genitori. È molto bello perché ci mostra come Gesù è iscritto pienamente nella storia. Gesù appartiene a un contesto religioso e sociale da cui non scappa, anzi è immesso dai suoi genitori in questo contesto religioso e sociale. A otto giorni, come tutti i bimbi, viene circonciso ed entra così a far parte del popolo dell'alleanza. Al quarantesimo giorno i suoi genitori appunto lo portano al Tempio per presentarlo al Signore come diceva la legge. In qualche modo egli viene riscattato come figlio, appunto come prescriveva la legge ebraica, ma senza pagamento perché è lui stesso il riscatto. In qualche modo quindi Luca ci presenta un Gesù che non sfugge dal contesto. Allo stesso modo Gesù è scritto nella storia anche perché fa parte di una famiglia. Mi colpisce molto la figura di Maria e Giuseppe che come due genitori semplici, come giovane coppia crescono Gesù e imparano insieme a lui a come si diventa genitori. Si lasciano interrogare dalla figura di questo figlio, di questo figlio particolare e sono allo stesso tempo aperti e docili allo spirito che in qualche modo li fa diventare sempre più genitori e sempre più discepoli. Infatti cosa fanno? Ebbè, portano il bambino per presentarlo al Signore al Tempio e obbediscono così alle tradizioni, non si sottraggono pur avendo un figlio speciale di cui ne sono bene a conoscenza perché lo portano, soprattutto Maria, è scritto nella carne questa novità assoluta e unica nella storia del figlio di Dio che si è fatto carne nel grembo di una donna. Però che cosa fa? Compie le stesse cose che compiono tutti gli altri bambini. Il loro figlio è educato come tutti e lo fanno in modo semplice. Offrono al Signore non agnelli costosi, ma quello che si possono permettere, cioè tortore e colombe, il sacrificio dei poveri, degli ultimi. Bene, ci viene mostrato come quindi Gesù è pienamente iscritto in questa storia. Ma nella seconda parte del Vangelo di Luca c'è un'altra pagina stupenda. C'è un'altra immagine di questi due anziani che riconoscono Gesù. Gesù è riconosciuto. Simeone vede, Anna parla e testimonia. Spesso ci preoccupiamo dei giovani. La Chiesa giustamente ha un occhio sui bambini, sui giovani, che devono entrare a far parte della comunità cristiana e essere il futuro. Però Gesù ci mostra come in questo caso ci sono due grandi testimoni, due persone anziane, due persone che riconoscono un bambino, anzi riconoscono nel bambino, che non parla perché è ancora troppo piccolo, il Messia e il Salvatore. E perché questi due anziani in maniera differente riescono a riconoscere questo bambino come il Messia? Beh, innanzitutto perché erano due uomini, un uomo e una donna in attesa. Cioè disposti all'ascolto, ad uno sguardo su qualcosa o qualcuno di nuovo, che venisse in qualche modo a riscattare, a liberare da quell'oppressione a cui l'umanità era, ed è da sempre, coinvolta. Secondo, questi due uomini erano saggi. Gli anziani spesso sono associati alla saggezza. Perché? Perché sono stati provati dalla vita. Anna era vedova e quindi aveva probabilmente provato una sofferenza, un distacco nella propria vita e aspettava una consolazione. Il Simeone era un uomo giusto pio che aspettava anche lui, dice il Vangelo, la consolazione di Israele. Aveva sofferto il fatto di essere appartenente a un popolo da sempre oppresso. Bene, quindi che cosa fanno? La loro saggezza gli permette di guardare e ricercare l'essenziale, abbandonando i fronzoli della vita e tutto ciò che in realtà serve a poco. Terzo e ultimo punto, credo che questi due uomini, questi due uomini, un uomo e una donna inattese, saggi, avessero anche compreso che non potevano trattenere questo bambino. Certo, come due anziani, appunto, saggi e discepoli, sanno che possono desiderarlo, possono incontrarlo, lo testimoniano, ma non possono trattenerlo. Perché la salvezza che hanno incontrato in questo bambino, in questo Dio che si è fatto uomo, in realtà può essere solo testimoniata e messa in circolo. Non si può fermare e trattenere. Ecco, allora credo che, come dice il ritornello del Salmo, aiutaci, Signore, a camminare nel percorso della vita, come hanno fatto questi due grandi uomini, questo uomo e una donna anziani, per arrivare a testimoniare che i nostri occhi hanno visto la Tua salvezza.